benvenuti a patchwork io sono valentina ed oggi realizziamo un poggio cellulare da scrivania per realizzarlo abbiamo bisogno di un rotolo di carta igienica dello scotch decorato come questo delle puntine da lavagna delle forbici e un taglierino primo passaggio avvolgiamo il nostro scotch decorato tutto intorno al rotolo della carta igienica una volta rivestito il nostro rotolo di carta igienica con lo scotch adesso passiamo a costruire le basi del nostro portacellulare con le puntine da lavagna e queste sono le basi del nostro portacellulare adesso dobbiamo creare il foro per mettere il cellulare all'interno una volta realizzata l'apertura fissiamo meglio i piedini di questo poggiacellulare con un po' di colla a caldo questo è il nostro poggiacellulare ultimato adesso proviamo a vedere se va bene ecco qui provateci anche voi vi aspetto alla prossima puntata di patchwork ciao ciao